Coordinare e promuovere l'offerta turistica della Prima Municipalità di Napoli per lavorare meglio auspicando in una crescente valorizzazione turistica del quartiere. È l'obiettivo del progetto Prima Turismo, arrivato alla quarta edizione, e presentato questa mattina nella Sala del Consiglio in Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone. Oltre a diverse azioni portate avanti per incrementare i flussi turistici nel quartiere, il progetto, che vede al fianco della Prima Municipalità, l'ATS, composta da Battage e CITAP, ha messo in rete i principali attori dell'offerta culturale della Municipalità, con itinerari culturali ed eventi distribuiti tra Chiaia, Posillipo e San Ferdinando. Alla conferenza di questa mattina hanno partecipato il Presidente della Prima Municipalità di Napoli, Francesco Di Giovanni, e Roberto Galloro di CITAP. Questo Prima Turismo è stato, secondo me, un successo che è nato 3-4 anni fa, proprio all'inizio del Consigliatore del 2016, facendo i primi passi, inventando da zero praticamente quello che potrebbe essere uno sviluppo turistico e culturale in una Municipalità, perché non esiste nelle altre Municipalità, non era mai esistita da noi. Lo abbiamo messo in piedi, grazie alla Commissione che ho proprio inventato, cioè la Commissione Turismo e Cultura, che è stata molto brava a organizzare, la Presidente Savastano è stata molto brava a mettere in piedi tutta questa organizzazione, e oggi ci troviamo ad avere proprio un'offerta culturale e turistica della Prima Municipalità, finalmente dopo tanto tempo, sempre migliore, sempre più organizzata. In effetti abbiamo messo in rete, una cosa semplicissima potrebbe farlo, non è poi troppo difficile, mettere in rete tutto quello che già esiste sul territorio, cioè potrebbe essere una cosa banale, però alla fine nessuno lo fa. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo messo in rete tutto quello che già esiste di offerta turistica e culturale sul nostro territorio, che è una cosa che poi ovviamente va programmata, va promozionata e va mostrata in vari modi ovviamente a chi ne deve usufruire. L'orgoglio di essere cittadino napoletano, ideatore di un'app napoletana e soprattutto residente in un quartiere dove le idee possono essere portate avanti con un comune, lo Stato, che accompagna imprenditori, esercenti e le organizzazioni statali a promuovere il territorio. L'idea del turismo promosso dai cittadini, dai negozianti, in un quartiere vivo, pieno di attrattive con un'app che permette di ritrovare i luoghi di interesse più importanti e noti della città è per noi vanto per partecipare a questo evento. Grazie